Il piano industriale di Estra, presentato a Expo Milano, punta sulla crescita. L'obiettivo per il triennio 2015-2017 è diventare un primario gruppo energetico nazionale, tramite fusioni e acquisizioni o con partnership e accordi industriali e commerciali. Sono già 4.000 clienti di Estra a Palermo e Catania. Il gruppo energetico, leader nell'Italia centrale, allarga i suoi confini e si spinge in Sicilia. Basta un clic per aderire a Economy Web Gas, la migliore tariffa gas sul mercato, offerta online da Estra. Con Estra, gas e luce costano meno per i soci Coop. Con i punti Coop, chi passa a Estra può scegliere la tariffa più adatta al proprio consumo. Con i punti Coop. Con i punti Coop.